Saper costruire e nutrire delle buone relazioni è un grande punto di partenza nel raggiungimento di quella che potremmo chiamare felicità. Ma oggi siamo tutti presi da meta, da chat e views e abbiamo perso l'abitudine a curare le relazioni. Oggi vi racconto nel corso della mia vita quali sono le tre regole d'oro che ho adottato per avere delle buone relazioni e spero siano utili anche a voi. Ne discutiamo come sempre dopo la sigla. Se tu che mi ascolti, tu lì oltre la videocamera, tu che mi senti, tu che ami Daily Cogito, se tu sei il risultato delle cinque relazioni più strette che hai nella tua vita, come dice il grande saggio, beh allora avere cura di quelle cinque relazioni e magari anche delle dieci, cento relazioni che hai nella vita significa avere cura di te stesso, significa prenderti cura del tuo animo. E questa è una cosa importante che spesso ci sfugge. Se invece al contrario come spesso facciamo nella vita per varie vicissitudini, quelle relazioni le trascuri, le vivi inconsapevolmente a casaccio e non dai loro l'importanza che meritano, è facile che tu perda il controllo di te stesso. Infatti avere cattive relazioni inevitabilmente si traduce nell'avere un cattivo rapporto con sé. L'avere buone relazioni è quindi una cosa fondamentale e molto egoistica perché significa poter coltivare la propria felicità. E nel tempo ho imparato a curare poche relazioni ma buone. E oggi vorrei raccontare e sviscerare tre regole che mi sono dato cum granosalis, regole che non sono da seguire in modo pedisseco, come se fossero degli ordini venuti dalle divinità. Sono delle norme che cerco di seguire e che negli ultimi anni mi hanno portato effettivamente ad avere delle relazioni più proficue e migliorando anche il rapporto che ho con me stesso. Quindi drizzate bene le orecchie perché qualcosa potrebbe essere utile. Ma prima di lanciarci in questa utilità voglio anche ricordarvi che siamo all'ultima settimana di trasmissioni qui da questi Cogito Studios. Mi viene già il magone a dirlo perché queste mura hanno visto e sentito cose che voi non potrete immaginare. In realtà sì perché tanti di voi erano anche in live mentre quelle cose accadevano. Maratone, lockdown, centinaia di ospiti, una montagna di idee. È stato bellissimo abitare questi Cogito Studios. Dal 20 dicembre noi fermeremo le trasmissioni quindi martedì prossimo voi vedrete l'ultima trasmissione da questi Cogito Studios. Poi faremo pausa fino al 16 gennaio quando se tutto va bene e se gli dei dello stream ce la mandano buona dovremo cominciare a trasmettere dai nuovi Cogito Studios. Quindi ci aspettano delle vacanze di Natale che in realtà saranno vacanze fatte di trasloco ma va bene così non vediamo l'ora. Peraltro in tutto questo è una settimana piena di eventi particolari perché io, per chi ascolta in live domani, per chi è indifferita oggi, cioè martedì 13 dicembre, sono a Genova per il mio monologo Le vite di Spinoza. Venite a trovarmi, il link è in descrizione, ci sono ancora alcuni posti al teatro della tosse La Clac, quindi non vedo l'ora di tornare a Genova. Inoltre nel weekend c'è il Cogito Festival, nel caso vi sia sfuggito tutti i link e i dettagli nel sito dailycogito.com e chi poi si manca all'appuntamento non venga a dire che non l'avevamo detto. Ma adesso torniamo alla nostra trasmissione. A cosa serve scappare dentro meta, dentro TikTok, nei social, nella virtualità, se nella vita reale poi non sappiamo avere cura delle relazioni? Vedete, nonostante tutto il virtuale in cui spesso ci rifugiamo per paura della realtà, e questa è una cosa che abbiamo detto tante volte qui su Daily Cogito, la concretezza e la gravità delle relazioni reali è ancora una grossa fetta della nostra felicità. Possiamo avere l'avatar più bello del mondo, possiamo nutrire le relazioni virtuali più straordinarie al mondo, possiamo avere le views dell'universo, ma se poi nella vita concreta e reale non sappiamo curare le relazioni con le poche persone che ci danno veramente qualcosa e che da noi magari cercano qualcosa, beh tutto quel meta si tradurrà comunque in grande infelicità. In fin dei conti, se ci pensate bene, maturare significa intraprendere un percorso che tiene in sé questi punti essenziali. Io non basto a me stesso, a un certo punto nella vita mi accorgo che io non basto a me stesso, non posso risolvere tutti i miei problemi, o se anche posso risolverli, le soluzioni che io cerco di darmi potrebbero essere quelle sbagliate, insufficienti e dovrò inevitabilmente aprirmi a qualcun altro, quindi non basta a me stesso. Ci sono anche gli altri, perciò cerco di circondarmi di gente importante, consapevole, gente che sa darmi la giusta prospettiva e in tutto questo a un certo punto mi accorgo che non è tanto importante cosa loro significano per me, cioè certo questo è importante, ma questa è la conseguenza di un'altra domanda che la persona matura riesce a porsi. Che ruolo io ho per loro? Cosa rappresento io per loro? E in quella reciprocità riuscire a nutrire delle buone relazioni. E gli errori che ho fatto in passato, ne ho fatto tantissimi, mi hanno costretto a mettere in discussione il mio atteggiamento nelle relazioni. Non che io oggi abbia la risposta e che risolvono tutto, ci mancherebbe, devo ancora migliorarmi molto, ma gli errori che ho fatto mi hanno permesso di trovare qualche punto essenziale, almeno per non essere totalmente inconsapevole di quello che mi circonda. Però prima di iniziare a sviscerare e raccontare queste regole, proviamo a contestualizzare cosa definisce una cattiva relazione dal mio punto di vista. Allora il primo punto essenziale è la casualità nel proseguirla. E dico nel proseguirla perché noi incontriamo le persone in modo casuale. Le amicizie possono nascere in modo casuale, così come anche una relazione d'amore può nascere in modo casuale. Certamente ci mancherebbe. Ci incontriamo e tac, scatta qualcosa. Una fiducia, un interesse, uno stupore, un sentimento. Ma quando proseguo le mie relazioni, quella casualità dovrebbe venire meno. E invece noi, così come casualmente iniziamo le relazioni, casualmente finiamo per intrattenerci nelle relazioni. Quante volte ci capita di accorgerci di avere un gruppo di amici, oppure una persona accanto a me, che non conosciamo, con cui siamo capitati, e che in realtà stiamo con quella persona non perché siamo consapevoli, ma perché ci sembra di non avere alternativa. Stiamo con quel gruppo di amici perché ci sembra che non ci sia alternativa. E quella casualità iniziale finisce per diventare una casualità proseguita. Ed è un grande male questo, perché questa è proprio la traccia di una cattiva relazione. Un altro aspetto della cattiva relazione è la trascuratezza, il dare per scontato. Io non nutro consapevolmente quella relazione, la trascuro, ovvero sì ci sentiamo quando ci sentiamo, sì non è tanto importante star lì a chiederci ogni giorno o una volta a settimana o con una cadenza regolare e consapevole come stai, come la pensi, cosa ti sta succedendo. Do per scontato il fatto che quando poi torneremo a scriverci tu sarai là, sempre in virtù di quella casualità iniziale e quindi se trascuro le mie relazioni trascuro anche me stesso. Le direzioni univoche vanno a sancire una relazione cattiva, cioè la mancanza di reciprocità. Una relazione non è reciproca quando io mi spendo per te e tu manco te ne accorgi o quando qualcuno si spende per me, mi viene incontro, da vita ai compromessi giusti e io non mi pongo il problema di qual è il punto in cui dovrei incontrarti. E quindi quando manca quella reciprocità, quando non c'è un interscambio, un compromesso reciproco, allora si dà per scontato tutto ed è una direzione univoca e quelle sono relazioni che sono destinate a finire di solito anche piuttosto male. Una cattiva relazione è quella in cui io tratto l'altro come mezzo e non come scopo. Questa è una cosa che sfugge spessissimo. La regola d'oro di Kant tratta gli altri come scopi del tuo agire, non come mezzi per un altro scopo. Ovviamente qui ci sono tanti distinguo. In ambito lavorativo sicuramente la relazione con un cliente o con un collega o con un capo può essere una relazione strumentale perché ho uno scopo che non è quello di nutrire quella relazione, ma nell'ambito delle relazioni di amicizia e direi anche quelle d'amore, cosa che non sembra possibile ma in realtà accade, in realtà devo sempre pormi il problema se la persona con cui ho quella relazione sia lo scopo del mio agire o se io stia semplicemente usando quella persona come occasione per raggiungere qualcos'altro, quindi come mezzo. Una cattiva relazione è quella in cui io uso gli altri come mezzi o sono usato come mezzo, non siamo mai desiderosi di essere usati come strumenti, ma spesso lo facciamo con gli altri e non ce ne accorgiamo neanche, perciò è importante porsi la domanda. Un'altra cattiva relazione è quella in cui c'è totale incapacità di parlare dei problemi quando è il momento di parlarne. Una relazione in cui temiamo l'emergere di problemi e questo è grave perché le relazioni sono un problema, come poi vedremo, ma quando vogliamo nascondere le cose sotto il tappeto, poi di solito alla fine il tappeto esplode e noi finiamo tutti per aria. Infine, l'assenza di critica e attrito. Le relazioni che funzionano sono quelle in cui si gestisce bene l'attrito. Signore e signori, stare con gli altri, stare in società, stare in una coppia, stare in amicizia significa smussare e gestire attriti. Se io non voglio gli attriti rimarrò sempre da solo pur circondato da un sacco di persone. Di solito chi non gestisce bene gli attriti si circonda di yes men, cioè persone che ti dicono soltanto sì sì va tutto bene, guarda che come vuoi tu. E poi quando le cose non vanno come vuoi tu rimani completamente da solo. Ecco, quelli elencati sono tutti problemi in cui nel tempo io sono inciampato sia da autore, da propugnatore di quei problemi, sia da vittima e hanno imbruttito le mie relazioni e quindi hanno imbruttito anche me. Poi ci sono tanti altri, non è un elenco esaustivo delle cattive relazioni, ma è un modo per dirvi come io vedo una cattiva relazione ed è il modo perfetto per poi incuneare il discorso di quest'oggi. Perché oggi ci curiamo poco delle relazioni e i problemi che io ho appena espresso secondo me sono problemi in cui in tanti possiamo riconoscerci. Intanto amico, la parola amico lo sappiamo, è diventata pure un luogo comune, però amico è diventato un tasto, un click. Nell'epoca di Facebook amicizia ha quasi perso di valore, ci siamo dimenticati il fatto che l'amicizia è qualcosa che va conquistato e una volta conquistato che va nutrito. E invece l'amicizia è diventato qualcosa che si raggiunge con grande facilità. E credo che questo sia uno dei tratti distintivi di questa epoca, nell'amicizia e anche nella relazione sentimentale d'amore noi desideriamo intrattenerci e divertirci. E le amicizie sono spesso un veicolo di disimpegno. Come dicevo, finiamo in amicizie casuali per passare il tempo, per trascorrere il tempo e finiamo per trascorrere noi stessi in quel tempo che non abbiamo preso in mano. L'amicizia da veicolo di consapevolezza diventa veicolo di disimpegno. Sto con queste persone perché c'è un brusio, una chiacchiera che mi permette di esentarmi dai problemi. Queste persone mi divertono, mi intrattengono e l'amicizia è anche questo, ma non può essere soltanto questo. siamo culturalmente a suoi fatti, a quella che tempo fa e ogni tanto mi capita di definire come transitorietà, ovvero il fatto di considerare tutto come transitorio, che nessuna promessa, nessun patto ormai lo poniamo in essere come, non dico eterno, però durevole, duraturo. Nell'amicizia non investiamo più quell'energia psicofisica che ci fa presupporre che quella cosa potrà durare anni e anni. Nella relazione d'amore già partiamo spesso pensando che ce la viviamo finché ce la viviamo. Nel lavoro viviamo una precarietà che prima di essere del lavoro è del nostro approccio al lavoro. Spesso l'ho detto, prendete il lavoro dello streamer, dello youtuber, del creatore di contenuti. Spesso le persone che fanno questo lavoro lo fanno proprio con l'atteggiamento del finché la va, la va. Ecco, il finché la va, la va sta dilagando in ogni cosa e questo disimpegno ci danneggia. E appena una relazione, che sia appunto di amicizia o d'amore, ci chiede un maggior impegno, pensiamo di poterla cambiare come si cambia canale YouTube. E questo, signore e signori, un bel problema. Se tutto questo era un tempo atteggiamento dell'adolescenza, nell'adolescenza è normale essere impregnati di transitorietà, di disimpegno e via dicendo, di ricerca del divertimento, oggi mi pare che gli adulti abbiano più o meno gli stessi problemi. E di nuovo non parlo degli adulti, parlo anche di me. Parlo dell'atteggiamento che vedo in me, nelle persone che mi circondano e credo che sia un problema di cui discutere. Io ce li avevo tutti questi problemi. In realtà ce li ho ancora, emergono qua e là, ma ho cominciato a lavorarci e ho iniziato a subire i danni delle cattive relazioni qualche anno fa. Ed erano danni consistenti. Quando ero in difficoltà non sapevo a chi affidarmi. Avevo delle difficoltà, delle tristezze, dei momenti di grave crisi e non sapevo a chi affidarmi perché non avevo intorno a me persone che mi avessero dato i segnali di affidamento, di confidenza. Quando mi sentivo ispirato, creativo, non sapevo con chi condividere quelle cose. E quando ero da solo non sapevo con chi uscire, non sapevo con chi condividere le mie idee, le mie passioni e via dicendo. Ed è da lì, quando ho cominciato a vivere questi danni, che ho iniziato a darmi delle regole, che non sono regole assolute, ma sono, di nuovo, delle linee guida. E sono tre quelle linee guida principali. E adesso cercherò di esporle. La prima. La prima è addestrati a essere la spalla, prima di aspettarti che l'altro sia una spalla. E questa è una regola fondamentale, che è la regola anche della pigna in culo. Cioè, spesso, chi si dà questa regola dagli altri viene visto come la pigna in culo. Ed è bene essere la pigna in culo. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'amicizia, ma anche la relazione d'amore, che se pensate è una forma di amicizia, non può essere soltanto disimpegno e divertimento. Non funziona così. Semplicemente perché la vita non è disimpegno e non è divertimento. È anche quello. Ma lo è come eccezione, perché la regola è tutta diversa. Noi lo sappiamo ogni volta in cui abbiamo bisogno di un aiuto serio. Lo sappiamo. Subiamo un lutto, perdiamo il lavoro, c'è qualcosa che non va, abbiamo un'insicurezza, cadiamo in depressione. Noi cerchiamo un aiuto che sia serio. Cerchiamo qualcuno che prenda seriamente il nostro problema. Capite che in un momento storico in cui il disimpegno la fa da sovrano, beh, campo a cavallo a trovare serietà nel disimpegno culturale. E siamo noi spesso i primi a disimpegnarci, pur cercando, quando ne abbiamo bisogno, una spalla seria. Scusatemi. Essere amico di qualcuno significa essere pronto al soccorso. L'amicizia non nasce per passare il tempo. L'amicizia nasce come relazione di mutuo soccorso. Ma non perché si diventa amici quando si sta male, ma perché quando si diventa amici, quando si intrattene una relazione, il pensiero del fatto che adesso si sta bene. Oh, siamo amici. Abbiamo cominciato una relazione, un rapporto d'amore. Adesso l'adrenalina, le endorfine. Oh, che felicità. Però c'è il pensiero. Prima o poi, quella cosa lì non è che sparirà, però verrà intervallata da momenti in cui si soffrirà. E l'amicizia nasce in virtù di questa consapevolezza. L'amicizia non può nascere in virtù del le cose andranno sempre alla grande. Saremo per sempre euforici e meravigliosamente contenti perché soltanto chi usa in modo poco parsimonioso l'LSD la vede in quel modo. Non è esattamente la realtà dei fatti. In realtà bisogna rendersi conto che adesso siamo euforici e a un certo punto io o tu o chi del nostro gruppo soffrirà. E allora ecco qual è il valore dell'amicizia. Essere la spalla che prima o poi tutti cercheranno. Ma attenzione, esserlo prima che si sviluppi la necessità. Perché? Perché nessuno diventa, come per magia, una buona spalla, un buon ascoltatore, un buon soccorso per un momento di sofferenza se si cerca sempre il disimpegno e la spensieratezza. E a un certo punto clic, premi un tasto e diventi serio, diventi il confidente, diventi l'ascoltatore, la spalla. Non funziona così. Bisogna abituarsi a questo prima che la necessità ci colpisca. Ed ecco dove arriva la piglia in culo. Adesso ve lo spiego bene. La regola infatti è addestrarsi a esserlo, non sii la spalla che tutti cercano. No, addestrati. Allenati ad esserlo perché prima o poi qualcuno te lo chiederà. Le persone a cui tieni te lo chiederanno. Ed ecco allora che devi esserlo prima che la necessità incomba. In due modi ti alleni ad essere la piglia in culo. Il primo modo è da solo. Cioè non c'è nulla da fare ragazzi. Trovando il coraggio di guardare in faccia le proprie vulnerabilità sia quelle passate che quelle presenti. Ed è il solito discorso che qui facciamo su Daily Cogito del prenderti lo spazio per pensare, riflettere, per raccogliere le idee, per prendere confidenza con te stesso. Nessuno che non riesca ad avere confidenza con se stesso potrà essere veramente un buon confidente per gli altri. E poi ci si allena anche con l'altro. Come? Facendo la pigna in culo. Avendo il coraggio di affrontare la gravità del reale alternandola alla serietà, al divertimento e al disimpegno. La serietà della realtà, la serietà dei problemi, va discussa prima che i problemi ci siano. La confidenza quella reale, il fatto di condividere paure prima che gli effetti delle paure si verifichino. Questo è fondamentale in qualsiasi relazione. Ancora di più quando è relazione d'amicizia, e perdonatemi, ancora di più quando si tratta di un rapporto d'amore o di convivenza. Non è mai una buona idea intrattenere relazioni serie in cui ci si fa promesse, non pensando mai ai momenti in cui la sofferenza colpirà le nostre vite, richiedendo in quel momento una diversa presenza. Ecco, l'errore è quello di pensare che da un momento all'altro si possa passare, senza essersi preparati mentalmente e anche discorsivamente, linguisticamente, espressivamente, al momento in cui ci sarà necessità della serietà. La pigna in culo, io sono la pigna in culo, nelle amicizie, nei rapporti e via dicendo, io cerco di discutere gli eventuali problemi, le oscurità, le sofferenze, ben prima che esse colpiscano in modo fortissimo. Per tanti motivi che poi discuteremo anche successivamente. Ma io non posso pensare di essere una presenza a click. Oggi sono festoso e spensierato per tutto il tempo necessario e poi quando arriva il momento di grande sofferenza faccio un click e divento serio. E non funziona così. Se pensate che sia così, vi prenderete dei tram sui denti veri. E noi, se ci pensate bene, siamo i primi a chiedere diversa presenza a coloro che ci sono amici quando ne sentiamo il bisogno. Poi veniamo delusi quando loro non sono all'altezza perché da loro abbiamo preteso sempre disimpegno e spensieratezza. Ed è questo il grave errore in cui cadiamo nelle relazioni. Spesso il motivo per cui non sono all'altezza di quella richiesta di diversa presenza è che non si erano preparati quando ce n'era il bisogno. E noi oggi che ridiamo facciamo festa ci ubriachiamo e stiamo entusiasti e stiamo facendo lo stesso errore. Quando pensiamo che nel momento di necessità saremo pronti. Per adesso pensiamo ad altro. Mi dispiace raga, non funziona così. O ti stai preparando oggi ad essere la spalla futura oppure ti stai preparando a deludere chi in te cercherà quella spalla. Regola per me essenziale. Seconda regola linea guida dopo quella della pigna in culo. Ricordati sempre delle tue seconde opportunità. Sì perché sembra che la prima regola ti dica devi essere sempre sul pezzo, sempre perfetto. Non è così, non è così. Quella è una tendenza. Vedete essere delusi o deludere qualcuno è un elemento intrinseco dell'animo umano. Fidatevi anche la persona più perfetta, etica, morigerata, razionale ha deluso e verrà delusa. Non possiamo farci nulla. Nessuno che non riesca ad accettare questo fastidioso fatto farà molta strada nelle sue relazioni. Perché? Perché l'intransigenza non è un buon metodo, in quanto vive della fantasia che esista la perfezione. La fantasia che ci possa essere l'incontro di due anime gemelle che non si deluderanno mai, che sia nell'amicizia o nell'amore. Come qualsiasi fantasia questo è un rifugio, una consolazione, un modo per raccontare a noi stessi che quella perfezione esiste e che lì fuori c'è il match perfetto. Non c'è, non c'è. È disastrosa la relazione umana ed è un continuo cercare compromessi su compromessi. Infatti la nostra memoria è molto molto selettiva e stronza e noi dimentichiamo con grande e sospetta facilità i momenti in cui siamo stati perdonati, i momenti in cui ci è stata data una seconda chance. Sapete perché li dimentichiamo? Perché quei momenti ci ricordano quanto siamo fallibili, quanto ci sbagliamo, quante stronzate facciamo. E quando ce ne dimentichiamo rischiamo di tornare a quell'idea di intransigenza e perfezione che in realtà di nuovo è una fantasia, una fantasia che ci difende dalla consapevolezza della nostra fallibilità. Siamo invece bravissimi, ma proprio abbiamo un talento straordinario, nel rinfacciare e ricordare agli altri la nostra magnanimità del momento in cui abbiamo dato una seconda chance, abbiamo perdonato e siamo soliti ingigantire quelle occasioni che in realtà magari poi alla prova dei fatti non sono neanche state delle cose così straordinarie. Ecco questa distorsione ci fa molto molto male perché ci fa dimenticare che tutte le relazioni passano inevitabilmente attraverso delusioni date e ricevute e il nostro lavoro di entità pensanti è quello di mettere un confine sul grado di sopportabilità che siamo disposti a porre. Perché vedete per ognuno è diverso quel confine, ci sono persone più tolleranti e meno tolleranti e bisogna chiedersi dove io voglia mettere quel confine e la cosa migliore sarebbe rendere chiaro a priori in una relazione dove per me sta quel confine. Ma raccontandoci noi la favola dell'intransigenza ce ne dimentichiamo e non ci accorgiamo neanche del fatto che volenti o nolenti quel confine lo mettiamo sia nei nostri confronti che nei confronti degli altri. Proviamo ad ammetterlo noi stessi una volta per tutte. Noi viviamo di seconde opportunità perché impariamo dagli errori e quando facciamo un errore se quell'errore è oltre il confine che l'altro ha posto più o meno consapevolmente verremo perdonati, anzi se entro quel confine verremo perdonati e avremo una seconda chance. Se oltre quel confine in realtà quell'amicizia, quel rapporto potrebbe rompersi come giusto che sia. Avere la forza di tenere a mente questo è fondamentale per mantenere le relazioni in buona salute e senza questa consapevolezza rischiamo di rinchiuderci in un oceano di intransigenza che ci mette dalla parte della vittima immaginaria. Io non ho amici perché tutti sono imperfetti, tutti deludono, nessuno riesce a capire e noi ci dimentichiamo che magari siamo stati i primi a deludere, i primi ad avere seconde chance, dimenticate, e i primi a non essere stati magnanimi e comprensivi, quando qualcuno magari compiva lo stesso errore che abbiamo fatto noi. Questa per me è una regola fondamentale perché per lungo tempo sono stato l'intransigente di merda e in quel periodo mi ripetevo quella roba che in realtà io non ho amicizie e sono da solo perché sono troppo perfetto. Puttanate, col tempo e la maturazione mi sono accorto che io ero stato perdonato un sacco di volte, che ho avuto un sacco di seconde e terze e quarte chance da persone magari insospettabili e lì ho cominciato ad accorgermi che in realtà io non avevo mai messo in discussione il confine che mettevo della mia tolleranza nei confronti delle altrui delusioni e da quel momento quella consapevolezza è diventata centrale e oggi so riconoscere negli altri quando mi concludono e capita il fatto che io ci sono passato, l'ho vissuta, l'ho vista e quindi sono molto più consapevole anche nelle seconde e terze chance che riesco a dare. Ovviamente con un limite poi non bisogna sopportare qualsiasi cosa però è un elemento molto molto importante. Prima di passare alla terza regola che è altrettanto fondamentale c'è una regola bonus, una regola bonus che è rendi chiaro il tuo linguaggio. Oh ragazzi, una buona parte delle nostre relazioni si deteriora per l'incapacità di esprimere ciò che sentiamo e pensiamo e allora arriva in aiuto uno strumentino che vi consiglio di usare. Quello strumentino si chiama Logonauti. Logonauta! Logonauta! Eccoci qua! Eccoci qua! Logonauti è il nuovo videocorso di comunicazione e argomentazione. Nick Dufer e Alessandro De Concini. Pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa. Liberarsi dal fatto che il linguaggio spesso viene visto come una catena, un ostacolo e iniziare a usare il linguaggio in ogni modo, quello verbale, quello non verbale, sia nella forma, ovvero il modo con cui comunichiamo, sia nel contenuto, ovvero ciò che mettiamo nel linguaggio, non più come un ostacolo ma come un alleato. Logonauti è un videocorso, è una community, è un percorso pratico, teorico, insieme, che vi permetterà di fare un salto di qualità nella vostra capacità di comunicazione orale, nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nello studio e in ogni contesto possibile. Perché in fin dei conti la felicità si raggiunge esprimendo se stessi in modo adeguato. E allora entrate in Logonauti e partite con noi per un viaggio per riprendere il controllo della comunicazione. E quindi, mi raccomando, migliorate il vostro modo con cui esprimete quello che sentite, perché altrimenti le relazioni, con tutta la buona volontà, finiranno nella merda, se parlate di merda. Questo è, in fin dei conti, il riassunto perfetto. Ma adesso c'è la terza regola. La terza regola, probabilmente la più complicata da seguire, ed è non scappare dai microconflitti. Ragioniamoci, ragazzi. È una regola essenziale nella relazione sentimentale o nella relazione in cui condividi degli spazi, convivi con una persona. E questo è importante da comprendere, perché spesso nelle amicizie, quelle in cui, non so, si passa la serata insieme, anche ogni sera della settimana e via dicendo, i microconflitti sono molto, molto più diluiti. Quando tu convivi con qualcuno, la regola è il microconflitto. Però bisogna anche capire come gestire questa cosa qua. Ora, la relazione, quella che chiamiamo come relazioni, è un particolare tipo di conflittualità. Non nel senso cinico del tipo che si fa la guerra, ma nel senso che è sempre l'incontro tra diversità che cercano punti di incontro. E quindi è la continua ricerca di piccoli, gestibili, amorevoli, compromessi. Se perdiamo di mente e di vista questo aspetto, rischiamo di convincerci di quella di nuovo fantasia secondo cui la relazione è l'incontro fra anime gemelle che nulla producono come attrito l'un l'altro e tutte stupidaggini. In realtà anche le persone più compatibili, però poi quando passano molto tempo insieme sviluppano questi attriti perché siamo diversi. Abbiamo diverse abitudini, diverse concezioni del mondo ed è normale che nascano quei conflitti. Ora, nella scoperta della reciproca diversità, e di nuovo la relazione è una scoperta di diversità, emergeranno tante cose sorprendenti. Soprattutto quando si inizia a convivere. Alcune ottime, che ci sorprenderanno meravigliosamente, ci faranno dire, oh sì, è quello giusto, è quella giusta. Per fortuna è. Altre non ottime, ecco, per usare un eufemismo, speriamo non pessime. Però alcune volte si passa anche per cose pessime e non c'è niente da fare. Ora, una buona relazione è quella in cui ogni attore coinvolto sa mettere un confine di tolleranza alle diversità altrui e sa, e questo è molto importante, comunicare per tempo i casi in cui il confine è superato. Fissatevelo bene in testa, perché senza questa cosa qua si rischia di fare casini incredibili. Comunicare per tempo, poi vedremo cosa significa. Però, attenzione! Attenzione anche qua, una piccola premessa. In primo luogo, il confine che io metto nella tolleranza dei comportamenti altrui che sorprendono negativamente le mie aspettative, che è definizione perfetta di conflittualità, micro-conflitto, il confine che io pongo non può essere troppo stretto, troppo rivolto alle mie abitudini, alla mia visione del mondo, alle mie opinioni. Non può essere troppo stretto, troppo intollerante, perché appunto si traduce in mal sopportazione della presenza altrui. Ora, se tu convivi con qualcuno o se tu condividi spazi per lungo tempo con qualcuno, non puoi partire da un confine stretto che rende molto facile la mal sopportazione dell'altrui presenza, perché non durerà tanto, oppure durerà tanto, ma semplicemente tu finirai per schiacciare l'altra persona e quindi il problema sarà di potere, di gestione, di predominanza e tutte cose che non fanno della relazione una buona relazione. Ovviamente, in secondo luogo, il confine non può anche essere troppo largo e non posso essere troppo tollerante nei confronti delle cose che mi producono fastidi, perché si produce nevrosi. Sono tantissime le persone che, quando si dice troppo buono, the nice guy, ok, sono talmente innamorato o talmente ho bisogno dell'altrui presenza che sopporto qualsiasi cosa, sopporto i comportamenti che magari non sono più semplicemente diversi, ma sono manifestamente maleducati, irrispettosi. Se io metto un confine così largo, finirò per avere una nevrosi, una crisi di nevrosi ed è inevitabile. Quindi il confine deve essere molto molto ragionevole, deve essere un confine in base alla propria sensibilità. E questo non può essere mentito, cioè non si può mentire. Io non posso mettere un confine largo per sopportare i tuoi comportamenti che palesemente mi creano dei problemi, che creano attriti difficili da sopportare per me. Perché starò mentendo? E nella menzogna la relazione non trova la sua dimensione ideale. Laddove emerge un dubbio, laddove il comportamento altrui sta un po' di qua o un po' di là di quel confine, allora lì nasce la negoziazione, nasce il micro conflitto da discutere. E questo è importante. Attenzione, se è vero quello che ho detto nasce una sorta di schematizzazione. Ognuno di noi all'interno delle relazioni di amicizia d'amore, ma soprattutto le relazioni di convivenza, dove si passa molto tempo insieme, pone dei confini di tolleranza. Perché? Perché l'altro è diverso da me e ci sono delle aspettative, alcune vengono incontrate, altre sorprese positivamente, altre deluse. Sarà inevitabile. Soprattutto quando il rapporto magari perde quella aura di magnificenza iniziale, quindi gli ormoni vengono un po' meno. Perfetto. A quel punto io pongo un confine. Qualcosa per me è sopportabile, qualcosa non sopportabile. Quel confine deve essere abbastanza generoso, ma non troppo, sicuramente non troppo stretto. Quando c'è quella relazione, nascono dei momenti di compromesso. Alcuni comportamenti dell'altro, così come alcuni comportamenti miei, finiranno all'interno del confine che io ho posto. E allora mi creeranno dei fastidi. Saranno delle abitudini che magari mi suscitano perplessità, un sopracciglio alzato, un po' di... Ma va te che cazzata. Ok, quindi, delle cose però sono sopportabili. Non mi producono, diciamo così, dei conflitti che siano veramente difficili a risolvere. Altri aspetti saranno palesemente al di là di quel confine. E allora lì io dovrò manifestarlo. Guarda, questa cosa non va bene, non mi va bene che tu ti comporti in quel modo per questi motivi, ma soprattutto per il rispetto nei miei confronti. E poi ci saranno delle cose che stanno un po' di qua, un po' al di là del confine. Lì nasce la negoziazione. Nell'accordo e nella comunicazione chiara io potrei anche decidere di spostare un po' in là o un po' in qua a quel confine, perché magari c'è qualcosa che mi dà un po' fastidio, un po' più del dovuto, io te lo faccio notare, capisco che quel comportamento però dipende dalla tua sensibilità. E quindi decido di ampliare un po' il confine. Questa è la negoziazione. Capite che tutto questo è gestione di microconflitti. Quando esprimo qualcosa che o va al di là del mio confine oppure che sta un po' di qua un po' di là. Se non gestiamo per tempo questi microconflitti, facciamo disastri. Ed ecco perché a inizio live dicevo attenzione a considerare tutte le relazioni come disimpegno, divertissement e evasione. Perché nelle relazioni queste cose avvengono e se io le penso in quel modo, al primo microconflitto io cambierò canale. E se cambio canale lo posso fare una volta, due volte, tre volte e magari mi perdo per strada quelli che potevano essere veramente delle buone spalle e poi alla fine mi troverò solo per quella fantasiosa intransigenza. Ed è per questo che dicevo comunicare per tempo questi microconflitti senza perderne troppo. Il microconflitto va sviscerato nel momento stesso o più o meno nel momento stesso in cui emerge per evitare quello che è l'effetto valanga, l'effetto tappeto, l'effetto in cui ho messo tutta quella roba sotto il tappeto e poi esplode e arriva una valanga di merda. Il microconflitto è il contrario delle ciliegie. Le ciliegie avete presente una tira l'altra. Il microconflitto appena ne allontani uno comincia a allontanare tutti gli altri perciò prendiamo l'abitudine a esprimere le cose che ci creano questi microconflitti se no ci stiamo preparando al disastro. Ora in conclusione le relazioni sono buone se hanno buon nutrimento e il nutrimento è l'intenzionalità che mettiamo nelle relazioni il nostro dedicare attenzione il nostro curare quei confini il nostro chiederci sempre se mi sto comportando in modo decente il mio chiedermi cosa ci stiamo dando reciprocamente e in questo sono convinto che ci sia una sorta di paradosso però positivo un circolo virtuoso che dovremmo ricercare solo chi conosce bene se stesso ha delle buone relazioni ma le buone relazioni ben nutrite sono necessarie a conoscere se stessi c'è il circolo vizioso contrario che ovviamente capite rovesciando questo paradigma che eventualmente secondo me non è desiderabile proviamo a mettere in atto dei comportamenti che producono quel circolo virtuoso e la regola d'oro finale è questa non considerare mai le relazioni né quella con gli altri né quella con me stesso un lavoro terminato ma metterlo sempre in discussione e migliorarsi anche con le regole che ho cercato di esprimere e questo è quanto spero che sia stato utile sapete qui su telecogito di relazioni parliamo molto spesso perché secondo me è uno dei problemi in cui bisogna battere il chiodo perché insomma non ci entrano in testa non entrano in testa a me pensate insomma a chi poi ascolta e spero di essere stato utile o almeno di intrattenimento o come sempre spero di essere la proverbiale pigna in culo o il tram sui denti grazie mille per aver seguito se siete in live adesso non uscite perché andiamo a leggere qualche commento per tutti gli altri guardate in descrizione i link venite a trovarci al Cogito Festival a Genova date un'occhiata a Logonauti sono tutte cose molto belle cose per nutrire le proprie relazioni con se stessi e noi ci rivediamo con le prossime live grazie mille per aver seguito buona serata e mi raccomando ragazzi fate i bravi ciao